Allora oggi si inaugura il nuovo punto vendita di Morris a Trinità, grandi e attese, perché questa scelta? Allora diciamo che qui la storia è partita più di un anno fa quando abbiamo acquistato questo stabilimento per la produzione della carne, perché qui c'è la nostra produzione della carne, quindi tutto quello che trovate nei negozi prodotto carne viene prodotto qui in questo stabilimento. Quando abbiamo acquistato questo stabilimento ci siamo accorti che aveva un negozio bellissimo già fatto ed era in una posizione che ci piaceva, quindi dopo un anno di lavoro nello stabilimento abbiamo deciso finalmente di inaugurare questo nuovo negozio che è il nostro nono punto vendita. Ecco, chi si rivolge a questo punto vendita? A quale area si rivolge? Ma vabbè, diciamo tutta l'area limitrofa, quindi Trinità, Castelletto, Fossano, anche Mondovì, insomma tutta questa zona qua, ci tengo a precisare che qui oltre tutta la nostra produzione di carne abbiamo anche le nostre mozzarella, tutta la produzione lattiero casearia che insomma arriverà fresca qui tutti i giorni, quindi troverete tutta la nostra gamma completa come negli altri nostri negozi. Un'ultima domanda, voi un anno fa, un anno e mezzo fa siete colpiti da un grave incendio della vostra sede di Caraglio, a che punto è la ricostruzione? Allora adesso stiamo depositando finalmente i progetti in comune, ci abbiamo messo un po' di più a progettare per fare una struttura veramente importante, se tutto va bene a fine maggio, inizio giugno cominceremo i lavori e speriamo, il sogno è quello di avere il caseificio pronto entro Natale 2024, è un po' ambizioso ma ci proviamo, si sa che nei sogni bisogna crederci per arrivarci.